E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, vi invito ad iscrivervi, mi raccomando se non siete già iscritti a questo canale condividete questo video con tutti i tifosi che conoscete, che seguiamo gli europei, seguiamo la nazionale e seguiamo anche il calciomercato in tal senso vi invito a vedere i video fatti quest'oggi e anche ieri sulle altre partite e le altre novità seguitemi sui social e signori quest'oggi andiamo a commentare questo big match di giornata infatti sebbene fosse una partita delle 18 mi ero segnato di guardarla, di commentarla perché era un po' il big match degli ottavi di finale Inghilterra-Germania e l'esito è stato roboante però diciamo che la partita in realtà non è stata questo grandissimo spettacolo ma andiamo a discuterne perché ci sono delle belle sentenze che emergono da questa partita che a mio tempo, il lotempore, il lotempore avevo anche cercato di evidenziare allora partiamo dalla debacle della Germania che è prima di tutto in prima istanza la debacle tattica di Löw che va avanti dall'inizio dell'europeo, ve l'ho detto dalla prima partita che riguarda soprattutto il modulo e le scelte che si sono fatte all'interno di questo modulo è da inizio europeo che vi dico ma questa Germania qui dovrebbe bayernizzarsi diciamo fai un 4-2-3-1 che cazzo fai un 3-4-3 che non ha assolutamente senso di esistere una squadra che sembra fatta per favorire non lo so io chi, Gossens per favorire Gossens anche lì vi avevo detto quando aveva giocato contro la Francia ma Gossens per carità grande giocatore per quel che riguarda il campionato italiano anche a livello europeo a me piace moltissimo Gossens ma non ha senso una nazionale che gioca con i Muller che gioca comunque con i Sané non ha senso impostarla per cercare il gioco su quel tipo di giocatore su quel tipo di situazione ma fai un 4-2-3-1 in cui Gossens giustamente e i giocatori in stile Gossens sono dei gregari non cercare di fare una specie di Atalanta 2.1 con il 3-4-3 che non ha assolutamente senso di esistere adesso c'è come vi ho detto ieri torniamo sull'argomento c'è la smania del 3-4-3 delle difese a 3 fino all'altro ieri facevano erano l'anticalcio sentire gli espertoni adesso le fa anche chi non dovrebbe farle cioè pensate che paradosso pensate Tuchel quanto ha creato diciamo a livello cosa ha rivoluzionato Tuchel ma questa Germania qui per come è stata messa in campo in tutte le partite dell'europeo non ha veramente senso di esistere ha vinto contro un Portogallo che anche lui come vi avevo detto prima dell'europeo aveva i suoi bei problemi aveva le sue belle gatte da pelare diciamo non è stato un Portogallo entusiasta ma la cosa peggiore è che non hai neanche visto una Germania di giocatori che non avevano voglia di fare che erano svogliati che non si impegnavano che erano stanchi i giocatori erano anche belli in palla ma è il discorso tecnico tattico delle scelte che non ha alcun senso nell'erroneità diciamo del fare sto 3-4-3 avevi anche iniziato la partita in modo corretto perché almeno mi avevi messo Werner che non ha fatto granché però quantomeno a livello tattico mi avevi messo il centravanti la partita bene o male era in equilibrio poi ha fatto uscire Werner per Gnabry e praticamente l'Inghilterra ha preso campo perché non avendo un centravanti il secondo tempo similmente al primo nella seconda parte ha visto un predominio dell'Inghilterra e l'Inghilterra è andata in vantaggio e poi ha raddoppiato ma basti pensare agli ultimi minuti cioè ma può un giocatore come Sané ma tu hai un giocatore come Sané che è uno dei migliori giovani uno dei migliori giocatori è il numero 10 del Bayern Monaco e me lo fai entrare all'ottantatresimo ma non ha assolutamente senso di esistere una gestione del genere Bellis guardate della Germania salvo due cose la maglietta che era stupenda quella di oggi e il centrocampo 2 cross Goretzka che pure gasa che pure fomenta che pure ci può stare ma lo fai in un 4-2-3-1 e ci può stare assolutamente e puoi anche metterci gli Gnabry nel ruolo puoi mettere i Sané nel suo ruolo puoi mettere un centravanti niente niente questo l'avevo fatto notare anche quando ha giocato con la Francia dopo l'Ungheria solo perché ha vinto contro il Portogallo e devi chiedere scusa a Gossens per la partita che partita ha fatto Gossens quest'oggi che non aveva Semedo davanti un Semedo che partita ha fatto Gossens che partita ha fatto Gossens e ancora le sentenze che vanno giù se ancora le sentenze pontatinale di questo europeo che colpiscono duro e anche sull'Inghilterra signore altra squadra in cui le sentenze signore carta canta l'Inghilterra una squadra che finalmente va un po' attenzione io non sto qui a glorificare la partita dell'Inghilterra perché anche ho sentito anche in telecronaca o ha segnato Kane e hanno detto partita fantastica di Kane ditemi voi cosa ha fatto eccettuato quel gol Kane onestamente però ha fatto il gol niente da dire per carità di Dio per il gol però l'Inghilterra è una squadra che va molto a sprazzi tra partita e partita e durante la partita quest'oggi si è adattata a livello tattico alla Germania è stata una scelta anche abbastanza rischiosa che io non è che apprezzo tanto le squadre che giocano in base all'avversario cioè arriva con una tua idea di gioco con un tuo schema gioca come ci sei arrivato all'europeo un po' come fa anche l'Italia giustamente non mi piacciono le squadre che si adattano all'avversario a livello di modulo non molto però diciamo il modulo della Germania la tattica della Germania era talmente sbagliata è stata talmente sbagliata che questa scelta alla fin fine si è rivelata non dico corretta perché secondo me l'Inghilterra ha vinto peraltro però diciamo ha avuto i suoi frutti per cosa ha vinto l'Inghilterra ma per una squadra che comunque in certi momenti della partita sa essere veloce sa essere ficcante sicuramente lo stadio ha spinto ecco posso una piccola polemica non sarebbe tanto giusto però che si giochi in stadi tipo l'Inghilterra oggi ha giocato a Wembley e potete dirmi quel che volete ma è un vantaggio che tu dai all'Inghilterra il fatto di giocare in casa gioca a Budapest gioca in un altro stadio non che giochi le sfide anche i gironi per esempio l'Italia ha giocato due volte in casa se uno è pignolo e non sarebbe tanto giusto quindi sicuramente il pubblico ha fatto il suo sicuramente c'è una nazionale giovane che ha fame che ha voglia di fare e sicuramente Southgate ha portato avanti questo progetto anche di europeizzazione dell'Inghilterra della nazionale inglese che è favorito anche da tanti giocatori da più giocatori che giocano nei campionati stranieri rispetto a una volta è una nazionale un po' più continentale è un'Inghilterra diciamo che ha adottato il sistema metrico decimale questo non sempre non in tutti i frangenti della partita però talvolta e insomma è un'Inghilterra alla fine che ha avuto il merito di stare concentrata sulla partita ho visto un'Inghilterra concentrata anche piuttosto operaia vogliosa e sicuramente più famelica e ora dopo questa lexio magistralis di calcio vado con le pagelle allora Pickford mi è piaciuto mi ha gasato nostro sad player gli do 6 e mezzo Walker meno brillante di altre partite ma sempre bene 6 più Stones mi è piaciuto 6 più Meguire mi è piaciuto molto Meguire quest'oggi 6 e mezzo Trippier 6 6 più dai oggi con l'Inghilterra siamo buoni 6 più Phillips 6 più Rice 6 più Shaw mi è piaciuto anche lui 6 e mezzo è come Bepi è come Bepi rassicurante ben piazzato bello di presenza gli diamo un 6 e mezzo perché assomiglia a Bepi in tutto e per tutto Saka 6 e sono buono Kane 6 più perché ha fatto un bel gol decisivo ma non mi aveva entusiasmato prima di quello Sterling molto bene io direi il migliore dell'Inghilterra gli do dal 6 al 7 quelli che mi sono piaciuti di più dell'Inghilterra sono stati Sterling Maguire e anche Grealish che è entrato dopo a Grealish gli do 6 e mezzo Henderson senza voto e andiamo alla Germania Neuer voto 6 per me è abbastanza incolpevole Ginter voto dal 5 al 6 Hummels 6 meno Rudiger è un po' sui gol poteva fare meglio secondo me specie il primo dal 5 al 6 Kimmich dal 5 al 6 Kroos Kroos dal 5 al 6 Goretzka 5 e mezzo soprattutto in fase di possesso non mi è piaciuto Gossens assente gli diamo dal 5 al 6 per essere buoni Havertz poca roba 5 e mezzo Muller ha sbagliato un'occasione veramente ha sbagliato un gol imperdonabile di poco per carità però uno così come lui non può sbagliare quei gol mi dispiace 5 e mezzo Werner 5 e più Gnabry impalpabile anche lui 5 e mezzo Musiala senza voto Sané senza voto Emre anche lì Emre Can ma che senso ho capito che mi metti Sané quindi rimoduli la squadra ma non sono cambi da fare quando stai perdendo il cambio di Emre Can onestamente per equilibrare tutto figlio di una gestione tattica che non convince non convince dalla prima partita signori e quindi Emre Can senza voto voto gli allenatori Gareth South che gli do 6 e mezzo Love mi dispiace 5 5 do il voto più basso perché la nazionale tedesca aveva degli ottimi giocatori gente anche vogliosa o comunque non refrattaria comunque non refrattaria l'impegno o la voglia gestione tattica a mio avviso imperdonabile ditemi cosa ne pensate un caro saluto